Io amo Italia E sono molto felice Arriva scortatissima Eva Mendes senza il suo Ryan Gosling Quattro parole tanto per, stile, diva, neocanta, che passa e va Più generosi analise Mahmood Serve molto per me trovare un look che possa matchare con la personalità Che vuoi, diciamo, esprimere sul palco L'immagine è importante, aiuta sicuramente a far arrivare le canzoni e i messaggi in modo più potente Perfetta interprete e analisa del più puro stile Dolce Gabbana Incontro di contrasti maschile e femminile Il taxidone nero in tutte le sue possibili declinazioni Jack e Romantò cappotti E tessuti che creano trasparenze sul corpo Austerità e seduzione all'ennesima potenza Con Naomi, splendida cinquantenne Jack e corsetteria, abbinamento prediletto anche da Armando Cervino Una collezione a blocchi di colore Il nude, il verde spento, il grigio e il nero La grande arte dell'intarsio e dell'accostamento di tessuti pesanti e impalpabili Sintesi di forza e sensualità